A copiata vincente per Ersu Sassari ed SN Sassari per la quarta edizione di Buon Appetito Erasmus Spring Edition. Andate in scena ieri sera venerdì all'interno della mensa universitaria in Via dei Mille. Oltre 100 studenti e studentesse provenienti da ogni parte d'Europa sono stati ospiti d'onore della serata di benvenuto che il presidente Ersu Sassari, Massimo Secchi e il direttore generale Antonello Arghittu hanno voluto e che ormai da tradizione offre come segno di gradita accoglienza per i tantissimi stranieri che scelgono Sassari per trascorrere un periodo di studio all'estero. Un'occasione di incontro e confronto anche istituzionale. Presenti l'assessore comunale alle politiche educative al Baccano e il professor Luciano Gutierrez, delegato rettorale per l'internazionalizzazione dell'Università di Sassari. Un menù realizzato mettendo in primo piano i piatti della tradizione sarda e sassarese e quindi la peculiarità gastronomica dell'isola, oltre alle eccezionali materie prime, rigorosamente bio e a chilometro zero.